La pioggia caduta immancabilmente su Londra, potrebbe avere anche conseguenze sulla tenuta del terreno a Stamford Bridge. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani insieme a voi anche oggi per la telecronica di questo match. Di scena la FA Women's Super League per una sfida che si pronuncia di grandissimo livello. Si danno battaglia Chelsea e Arsenal. Non vedo l'ora che inizi, ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire e regalare a questo splendido pubblico una partita all'altezza delle aspettative. Può andare al tiro, fa il suo dovere qui il portiere. Il portiere si oppone ma il pallone è ancora lì, palla ancora in gioco. 1-0, ecco il gol della squadra ospite che parte subito benissimo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Erikson. Kirby. Niente da fare, gran recupero difensivo. Littow. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Kirby. Occasione per Kerr. Palla che ti risce comoda tra le braccia del portiere. Da sottolineare, questo è un errore da matita rossa, da lì doveva metterla dentro. Miedema. Ha spazio davanti a sé. Occasione da sfruttare. Intervento del difensore che concede il corner. Occhio al corner. Ci pensa lei. Va per vie centrali. Si salva il portiere ma non è finita. Recupero di Erikson. Palla col contagiri. Kerr. È sola Kerr. Buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio. Devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. McCabe. Grande intervento difensivo. Può girarla una compagna. Si fa vedere lateralmente il Chelsea. Può metterla da lì. L'ha messa fuori. Ma cosa ha sbagliato? Poteva essere il pallone del pareggio. Ha letteralmente graziato il portiere qui. Finisce qui la prima frazione. Squadra a riposo. Tutto pronto a Stanford Bridge per il fischio di inizio del secondo tempo. Occhio all'avanzata. Nessun problema per la difesa che recupera. Occhio qui al contropiede. La difesa è messa male. Occhio qui alla ripartenza. Può far male da lì. Stavano già per festeggiare ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata Lele. Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile Pierre. Pallone in mezzo. Pertarriva lì destra che non crea nessuna difficoltà. Ericsson. Wrighten. Kirby. James. Legge bene qui. Una traiettoria interessante. C'è il contrasto. Può provare. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Sostituzione tra le gambe. Annerz. Fleming. Splendido intervento difensivo. Raffaele. Ford. Possibilità di contropiede. Attenzione. Ripartenza che non va a buon fine. E difesa che recupera il pallone. Ottima posizione qui. Che gesto tecnico pazzesco del portiere. E più di qualcuno qua gridava già il gole. Riesce a tenerla in gioco. Catley. Velti. Miedema. Tocco verticale di Miedema. Ha il pallone buono. Vediamo cosa combina. Aveva solo il portiere da battere. Sembrava una formalità. E invece intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlights del match pier. E indipendentemente dal risultato finale parlo. Un capolavoro. Raiten. Possono ripartire. Attenzione. Si libera a spazio. Non ha avuto l'istinto giusto sotto porta. Palla tra le braccia del portiere. Le riconquistano palla le Gunners. Ha una grossa chance qui. Attenzione. E il pallone entra. Ed è gol. Match che riprende. Ha un allungato portandosi sul 2-0. Intercetta bene qui il pallone. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Allora interessante. Colpo di testa che non è finito poi troppo lontano dal palo. Fischia tre volte l'arbitro. E c'è la delusione per i padroni di casa per questo K.O. finito. Grazie.